Ciao, io sono Brian Bocconi, sono un diplomato della Berstein School of Music Theatre. Siamo qui al Teatro Nouveau, Teatro Comunale, per mettere in scena appunto Carousel. Io sarò Billy Bigelow, che è questo giostraio che insieme alla signora Mullen portano avanti appunto questa giostra e questa attività. Billy conosce e si innamora di questa Julie a causa di questo amore. Billy perderà il posto di lavoro. Julie Jordan è, come dire, è un personaggio pieno di vita, sa perfettamente quello che vuole. È molto semplice, è molto buona. Vede in Billy una persona ferita, una persona che ha bisogno di una retta via. Billy è un ragazzo che ha bisogno di una via e io gli mostro la via più scura che conosco, che è quella di rubare e fare tutto quello che voglio senza mai seguire le regole. Siamo nel retroscena del Teatro Nouveau di Bologna. Siamo nella parte finale del montaggio di questo spettacolo, che è iniziato in realtà a maggio. In questo momento stiamo allestendo tutto quanto in scena. Abbiamo fatto prove di costume. Questo ensemble è gigantesco. Siamo quasi 60 persone in palcoscenico. Ed è meraviglioso ritornare a casa per un'ex studentessa e risentirsi parte di una vera e propria famiglia di lavoro, ma anche di artisti e di professionalità. Vi aspettiamo 7, 8, 10 e 11 luglio al Teatro Comunale Nouveau in zona fiera qui a Bologna.